In occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile, che si svolgerà dal 21 al 26 ottobre, il Palazzo di Giustizia Bresciano apre le porte ai cittadini con l'obiettivo di dibattere sul funzionamento delle cause e dei processi e sui diritti dei cittadini. All'Aula Formazione Assunta Panetteri si alterneranno magistrati dalla mattina fino alla pomeriggio per discutere di lavoro, famiglia, sostegno e servizi alle imprese. Ai nostri microfoni la Presidente della Corte d'Appello di Brescia, Graziana Campanato. Una innovazione a quelle che sono le modalità attuate negli anni precedenti in cui si celebrava la giornata voluta dalla Commissione Europea e dall'Unità Europea in maniera più formale attraverso un convegno parlando di argomenti più giuridici che altro. Abbiamo pensato di aprire le porte alla cittadinanza come era nell'indicazione dell'Europa che voleva attraverso questa giornata avvicinare la giustizia al cittadino e viceversa il cittadino alla giustizia. Quindi porte aperte per i cittadini senza bisogno di prenotazione, di dare il proprio nome, di libertà assoluta. C'è un programma attraverso il quale si vedrà che ci sono dei giudici e dei cancellieri disponibili a trattare alcune questioni. Questo programma è solo l'inizio perché pensiamo di rimpolparlo un po' prima delle date in cui comincerà il tutto che va appunto dal 21 al 26 ottobre o forse anche al 28 se ci riusciamo e ci auguriamo veramente che attraverso questo incontro il cittadino abbia le idee un momentino più chiare, concrete su almeno alcune questioni e noi anche di captare meglio i bisogni di cittadini, le priorità da dare alle cause proprio attraverso le domande che ci verranno fatte.